L'annullamento stabilito dal Tarra di Pescara con sentenza 69 2019 pubblicata il 7 marzo scorso della conferenza di servizi del comune di Cepagatti sulla cui base erano stati avviati secondo le associazioni senza alcun titolo legittimo i lavori per la costruzione del cosiddetto Mirò comporta una sola inevitabile conseguenza, quello che è stato realizzato senza autorizzazione va ora abbattuto. Lo hanno chiesto questa mattina a gran voce in una conferenza stampa congiunta i rappresentanti di WWF, Confcommercio, Confesercenti e CNA. Noi non le abbiamo giudicate noi ma le ha valutate il Tarra ritenendo che quella conferenza dei servizi proposta e promossa dal comune di Cepagatti non è valida. E quindi tutto quello che ne è conseguito e cioè la voltura e la proroga di validità dei permessi originariamente rilasciati sono venuti meno. E pertanto quelle opere sono abusive e quindi debbono conseguentemente essere demolite. A ciò dovranno provvedere le autorità di vigilanza sul territorio che sono chiaramente i comuni di Cepagatti e di Chieti. La pronuncia del Tarra ovviamente poiché è incentrata sulla violazione di legge e quindi sul non rispetto di una legge apre anche scenari diversi e probabilmente anche responsabilità sotto altri piani e profili che ovviamente dovranno essere valutati dalle autorità competenti. In altre parole dovrà essere valutato se questo comportamento di non rispetto delle leggi possa avere o meno avvantaggiato o svantaggiato qualcuno a favore o a favore di altri. E se comunque questo comportamento che ha in ogni caso determinato dei costi di gestione delle attività possano essere fonte di danno contabile e non ricadere ancora una volta a carico dei cittadini che insomma rimandano sempre alle istituzioni per il rispetto della legge. Grazie.